Sono polemiche e accuse che fanno sorridere, sono puerili e sono veramente strumentali. Il centro-destra è ben consapevole che la sanità, le attività produttive, il sociale, l'edilizia abitativa e tanto altro sono le vere priorità della nostra regione, specialmente dopo cinque anni di buio assoluto dove molte di queste priorità sono state assolutamente inascoltate e in evase. Ma noi sappiamo e siamo consapevoli che una nuova legge elettorale che porta un maggioritario puro sia anche questa una cosa molto importante per l'Abruzzo e per gli abruzzesi perché noi riteniamo che il voto popolare abbia il giusto rispetto e che il giorno dopo le elezioni si sappia con certezza e saluta chi ha vinto, chi può per cinque anni governare ed amministrare e quindi chi può in questi cinque anni essere poi valutato serenamente dagli elettori dopo cinque anni. Quindi noi riteniamo che fare questa battaglia sia per noi una battaglia vitale perché si dà il giusto rispetto al voto popolare.